Restart, la casa degli imprenditori, le loro storie che vi hanno tenuto compagnia per questo periodo, vi seguiranno anche questa estate, nel mese di luglio e di agosto, con le loro storie vicenti di ripartenza, di ripresa, vero Giussi? Certamente potrete rivedere le nostre puntate e prendere gli spunti di educazione finanziaria per non perdere il filo conduttore di tutti questi temi che ci possono essere utili nella nostra quotidianità. Seguiteci ogni mercoledì dalle 18.30 su WellTV, canale Sky 810 e in streaming www.welltv.eu Seguiteci con Restart! Buona estate!